I numeri sono importanti perché in una scuola come il liceo Marconi che vede 1900 studenti, 150 ragazzi sono stati volontari, hanno coinvolto 72 classi, hanno coinvolto tutti i docenti in tutti i luoghi della scuola per raccogliere alimenti per la popolazione ucraina e per i bisognosi del nostro territorio. Quindi abbiamo oggi raccolto 1200 kg di alimenti da destinare a queste persone. Quest'anno per la prima volta in una scuola superiore si è attivata questa iniziativa, vorremmo riproporla anche nel 2023. Speriamo che i ragazzi siano con noi ma dalle prime avvisaglie direi che sono loro i primi a chiedercelo. Effettivamente è stata veramente una grande occasione che a noi ha insegnato molto e quindi sicuramente continueremo in questa traiettoria. C'è parlare ai più giovani perché stiamo sentendo che loro hanno proprio bisogno di sentire che c'è un modo di contribuire alla società che parte dal basso, parte da gesti semplici come recuperare a scuola qualcosa da donare a chi ne ha bisogno. E quindi noi siamo veramente molto contenti ed è nella direzione di condividere il bisogno. Condividere il bisogno, condividere le informazioni e fa scoprire che c'è un mondo di solidarietà. Nelle Marche sono 260 enti, un sacco di volontari che tutti i giorni operano, per esempio i dati del Banco Alimentare sono che l'incidenza di queste opere va a colpire 43.000 persone stato di bisogno solo nella regione Marche. Quindi c'è tanto bisogno, tanto da fare ma la bellezza è vedere che c'è tanta gente che vuole contribuire.